Rieccoci, buon fine settimana a tutti voi, buon venerdì 2 agosto, seconda estrazione del mese, questa sera l'84 è arrivata a Firenze come estratto semplice, che peccato nessuna posizione e con nessuno di questi abbinamenti, il 12, il 13, il 15, cosa che sicuramente, dico la mia, arriveranno scaglionati su Firenze e Roma, questo poco ma sicuro, vedremo se mi sbaglio, ma prima arriva l'ambata e poi abbinamenti sparpagliati oppure addirittura in coppia, questa è l'ipotesi che dico io, magari spero di sbagliarmi, ma ormai le conseguenze di chi fa 26.000 visualizzazioni in pochi giorni, già tanto se danno l'ambata, figuriamoci se danno gli abbinamenti accoppiati, va bene, nuova condizione, non mi voglio dilungare perché se no viene lunga, quindi è arrivato l'estratto 84 in terza posizione, ma questo potrebbe esserci di aiuto perché la nuova condizione prevede di nuovo Roma e Firenze, stavolta con il numero 6, l'84 in terza posizione Firenze può ripetersi su Roma, anche perché la ruota principale è la ruota di Roma, quindi le posizioni sono queste per la ruota di Roma e la ruota di Firenze sono queste, quindi quarta e quinta su Roma, terza e quinta su Firenze, abbinamenti 84, oh cosa vedo qua, c'è l'84 di nuovo perché è 6 di Roma, porta l'84 e l'86 cadenza 6, quindi attenzione, 84 e 6 c'è la somma 90, occhio perché il 90 su Roma e Firenze non è ancora arrivato, se volete unificare il 90 con questa condizione siete liberissimi di farlo, perché il 90 è atteso su Firenze e Roma, ho modificato la classifica integrale del 90, ve la faccio vedere subito che siamo in ritardissimo, ho tolto la ruota più schifosa, quella di Torino, ho messo Genova perché c'è il discorso che quel di Palermo va su Genova, quindi Firenze e Roma rimangono alle primarie, attenzione all'84 che può agganciarsi con la nuova condizione, 6, 80, 84, 86, 90, Firenze e Roma, Genova e Venezia, quindi potrebbero essere le secondarie, ritorniamo un attimino all'ultimo schema, eccolo qua, quindi 6 a Roma, ruota principale, quarta e quinta posizione, per chi giocherà all'estratto come più forte, quindi la quarta posizione, poi come strato semplice, l'80, 84, 86, unici abbinamenti per la ruota di Roma e di Firenze, la lunghette stendetela anche sulla ruota della Nazionale, perché avete visto che l'Amboseco è arrivato sulla Nazionale nei primi 3-5 colpi, quindi siamo a buon punto con la ruota di Roma, se no andiamo a vedere l'8++, sempre che interviene, grazie a Roberto Borrelli, ci può dare un aiutino, eccola qua, andiamo a vedere la ruota di Roma, solo nelle 300 estrazioni, guardate il numero 6 come si comporta, guardate che sono tantissime, sono tantissime, le estrazioni, dove cavolo sono andate a finire, eccolo qua, su 300 estrazioni quasi 30 presenze, vuol dire che il 6 a Roma è davvero fortissimo, e guardate come si scallina bene nei piani medio-bassi, e quindi il 6 a Roma fortissimo, ma poi abbiamo, mi sembra, una somma 6 anche sulle ruote di Firenze, se non sbaglio, correggetemi, e quindi occhio, il Roma, occhio perché questa è veramente una bellissima condizione, 6,80, 6,84, 6,86, Roma, Firenze, e poi se volete estendere gli ambi secchi anche sulla Nazionale, avete visto cosa succede, quindi vediamo cosa succede, se arriva l'ambo secco sulla Nazionale, e poi magari si fanno vedere anche gli amminamenti ogni tanto, vediamo come va a finire, poi sospenderemo la condizione, quindi diciamo che l'84 adesso potrebbe ritornare su Firenze e Roma, e attenzione comunque, attenzione comunque al 90 perché può ripetersi adesso, probabilmente adesso potrebbe andare sulla ruota di Firenze e Roma, quindi occhio, l'84, vi ripeto, si può ripetere perché è in terza posizione, occhio, quindi abbinamenti per il 6, l'ottantina, Firenze e Roma, ruota principale Roma, e poi mi raccomando, estendetela anche sulla ruota nazionale, l'ultima locandina è quella della classifica integrale del 90, Firenze e Genova, Roma e Venezia, Firenze e Roma dovrebbero essere le primarie, non dimentichiamo di unificare il 90, con la nuova condizione Firenze e Roma, questa, se potete metteteci il 90. Da Marcus è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento, ciao, ciao, ciao.